Ciao ciao a tutti e buona domenica pomeriggio buona domenica pomeriggio assolata, calda direi affosissima io sono rinchiusa in casa come potrete vedere dal colore perché mi sembra di vedere tutto azzurro ma non riesco a vedere molto bene poi vedrò se riesco a correggere il colore sono con le finestre praticamente quasi tutte chiuse con le persiane in pulirula come si dice da noi quindi le persiane accostate alla finestra la luce comunque entra perché c'è un sole che è veramente molto molto forte ed è un venticello che ha lasciato il cielo completamente azzurro e limpido ma è veramente molto affoso e ho pensato di raccontarvi un po' i libri che ho letto in questo ultimo periodo e che ho preso nel mio circuito interbibliotecario che reputo meraviglioso che è quello della provincia di Lecco e come dicevo in un post che ho messo su Instagram e su Facebook se non ricordo male mi sono accorta che appunto i libri scelgono me non sono io che scelgo i libri non so come mai per esempio questi due primi libri che vi presenterò ho deciso di leggerli perché non sono dei libri per me diciamo non è uno stile usuale sono dei racconti al quale io non mi sono mai affacciata e devo dire che mi sono piaciuti tantissimo e il primo è di Giuseppe Pederiali L'Osteria della Fola in questo libro ci sono dei piccoli racconti che sono ambientati nella bassa tra la provincia di Modena, Reggio, Bologna e Ferrara e dove l'autore appunto ci racconta di vecchie tradizioni vecchi, vecchi, strani animali strani creature ovviamente che fanno parte dei racconti della tradizione come penso ognuno di noi abbia io ho in mente il mio papà che mi raccontava di un racconto una fiaba dove praticamente c'era questa bellissima signora dai capelli biondi con un viso dolce che però se tu abbassavi lo sguardo aveva i piedi a forma di zampe d'oca ed era chiaramente il diavolo impersonificato c'era tutta questa cosa io mi piacevano tantissimo questi racconti che erano ovviamente sempre ambientati nelle montagne intorno a noi e quindi mi sono proprio molto appassionata a questi brevi racconti che parlano di tradizione che parlano di zone a me sconosciute perché non ho mai letto nulla che faccia riferimento a queste zone una raccolta bella una raccolta che parla di tradizione che parla di terra che parla di contadini ambientati ogni racconto in un'epoca diversa si parla anche di personaggi famosi come Matilde di Canossa si parla di storie ambientate nell'ottocento, nel medioevo oppure di storie ambientate negli anni quaranta, negli anni cinquanta o anche ai giorni nostri è veramente una raccolta molto piacevole da leggere scorre velocemente e l'ho trovata perfetta per esempio non so se avete magari la possibilità di leggerla in treno o un autobus in un viaggio che vi porti ad una zona turistica dove siete diretti per le vacanze oppure soltanto sul pullman quando andate a lavorare insomma mi è piaciuto mi è piaciuto davvero tanto non conoscevo questo scrittore che se non ricordo male non so se è un giornale Giuseppe Pederiali è nato a Finale Emilia nella bassa modenese e vive a Milano narratore per adulti e per ragazzi ha pubblicato molti molti libri ha raccolto saggi e interventi giornalistici un libro che vi consiglio se siete come me degli amanti di racconti legati alla terra al popolo alla tradizione alle qui si parla anche di di un'osteria dove succedono dei fatti divertenti insomma veramente veramente molto bello molto divertente si legge si legge velocemente e quindi è stata una bellissima scoperta come una bellissima scoperta è stato questo racconto possiamo dire così questo romanzo scritto da Francesco Guccini che conosciamo tutti come cantante come poeta Francesco Guccini è stato un personaggio importantissimo della mia adolescenza perché le sue canzoni sono state cantate nelle nel mio oratorio a voci sguaiate stonate con le chitarre che ci accompagnavano nelle serate estive quando finivamo l'oratorio e noi educatori ci fermavamo a cantare purtroppo è stato anche il compagno di tanti addi a tanti amici che sono scomparsi prematuramente quindi le sue canzoni hanno accompagnato così il saluto a a dei a degli amici che che ci hanno che mi hanno lasciato tanto 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 tempo fa e quindi lo ricordo lo ricordo sempre con molto piacere anche perché è stato uno dei pochi cantautori a cui io sono andata ad un concerto e mi ricordo che per andare ad un concerto di Francesco Guccini ai tempi non ero ancora maggiorenne quindi figuriamoci se mia mamma mi avesse poi dato il permesso e mi ricordo che un amico aveva chiamato mia mamma dicendogli che insomma io sarei stata al sicuro che le persone che c'erano andavamo in treno ed era non ricordo dalle parti di Milano non Milano Centro ma era in un in un stadio all'aperto insomma delle zone delle zone di Milano e mi ricordo benissimo che a questo concerto con gli accendini accesi ad un certo punto lui ogni tanto tra una canzone e quell'altra seduto su una sedia semplicissima con la sua chitarra aveva ai piedi un bottiglione di vino rosso e ogni tanto così assaggiava un bicchiere di vino e quindi io lo lo amo profondamente lo ritengo una persona intelligente un cantautore stupendo un poeta e tutto questo lo so ritrova in questo libro che mi è piaciuto tantissimo è il primo che leggo scritto da lui tanti amici che mi hanno consigliato altri romanzi andò sicuramente a cercarli e anche questo è possiamo dire un racconto tre cene raccontate da questo amico che non sono riuscita a capire se è una descrizione autobiografica di Guccini o se invece è proprio un personaggio inventato che ritorna al paese di origine dopo tanti anni che è mancato e proprio rivedendo la piazza il bar dove si trovava con i suoi amici dell'infanzia comincia a raccontare e a ricordare partendo da una cena che è stata fatta nel periodo prima della seconda guerra mondiale tra gli anni 30 e gli anni 40 probabilmente sentita raccontare una storia che anche lui ha sentito raccontare e quindi comincia raccontando questo incontro tra amici che vanno a questa cena e poi pian piano il discorso si incammina incontrando altre persone incontrando altri amici che purtroppo non ci sono più e alla fine racconta di una cena che non è una cena ma è un pranzo e che riporta il discorso alla prima cena veramente un libro delizioso scritto in maniera impeccabile con un linguaggio un po' boccacè boccancesco divertente leggendolo io mi sono talmente immedesimata che alcune parti le leggevo sia con l'accento emiliano o modenese sia con l'accento toscano perché ci sono appunto personaggi di queste due regioni e niente mi sembrava praticamente di sentire Guccini che raccontava la storia cioè veramente molto molto carino e sicuramente andrò a a leggere altri romanzi appunto di Francesco Guccini tre cine l'ultima in vero è un pranzo bellissimo veramente mi è piaciuto tantissimo anche questo molto veloce da leggere diciamo non è diviso in racconti è diviso in capitoli comunque molto molto corti e quindi potete anche così leggerlo interrompendo senza poi magari dover ritornare al racconto perché magari non vi ricordate perché la storia è complicata assolutamente no bellissimo semplice divertente anche nostalgico direi veramente molto nostalgico molto molto bello mi è piaciuto davvero tanto un libro invece che non arriva dalla biblioteca ma che ho comprato soltanto perché la copertina con questi colori mi attirava tantissimo perché secondo me il rosso e l'azzurro stanno da sempre bene insieme anche se tante persone non la pensano così questo libro che si chiama Piccoli Desideri Piccoli Desideri di Michelle Adams di cosa parla? allora parla di due persone che da giovani si sono innamorati e che si chiamano Elisabeth e Tom questi due ragazzi in gioventù si innamorano purtroppo però per delle vicissitudini legati alla famiglia di Elisabeth non possono non possono stare insieme Elisabeth ad un certo punto si sposa con un medico che è venuto nel piccolo paese dove si ambienta la storia è venuto a sostituire il diciamo il papà di Elisabeth che è un medico e che sta andando in pensione lui deve prendere appunto il suo posto è ambientato su un piccolo paesino sulle coste della Cornovaglia un paesino sempre abbastanza freddo molto ventoso e nulla queste due persone però rimangono legate rimangono legate perché sono innamorate e nonostante per delle varie vicissitudini non possano stare insieme comunque Tom ogni anno per quasi 50 anni nel giorno dell'anniversario del loro incontro dove si sono così detti che si amano che si vogliono bene e che si sono promessi di stare insieme per tutta la vita va al cottage di Elisabeth e lascia un piccolo dono con un fogliettino con un desiderio tutto questo per 49 anni Elisabeth poi ha una figlia rimane vedova ha la sua vita d'artista perché lei dipinge e all'alba del cinquantesimo anno purtroppo la mattina si alza pensando di trovare sulla all'ingresso della sua casa il dono di Tom ma quel giorno il dono di Tom non c'è comincia allora a fare delle ricerche nonostante sia comunque anziana e capisce che deve andare a cercarlo quindi si si imbarca in un'avventura alla veneranda età di 70 anni e passa e quindi cerca Tom va a Londra scopre che Tom non sta bene ed è per quello che non è potuto andare a lasciare il suo regalo e da lì cominciano a ricordare e capiscono che il tempo purtroppo è poco e che i desideri che ci sono scritti nei foglietti devono assolutamente in tutti quei 49 anni il cinquantesimo comunque è un desiderio che devono assolutamente far avverare capiscono che il tempo è poco e comunque cercano di vivere al meglio il poco tempo che gli rimane e di cercare di esaudire tutti i desideri un libro molto tenero un libro che parla di amore che parla di amore che dura da tutta una vita e che purtroppo alcune scelte della vita non ci permettono magari di fare quello che vogliamo un libro che mi è piaciuto tantissimo che alla fine ti fa capire che comunque la vita vale sempre la pena di essere vissuta al 100% e che a volte magari si deve avere il coraggio di cercare di realizzare i desideri che che si hanno nel cuore insomma bello molto molto bello mi è piaciuto davvero davvero tanto e ve lo consiglio molto molto romantico e e nulla un libro che si legge molto piacevolmente e sicuramente carino da da leggere poi questo mi è piaciuto si è Mary Ellen Taylor il ricordo delle cose belle anche questo è carino magari non tanto intenso come questo a livello così di sensazioni che mi ha che mi ha lasciato allora di cosa parla questo libro parla di Megan che è una una ragazza che scopre di di essere incinta del suo fidanzato ma scopre anche a pochi giorni dal matrimonio che il fidanzato l'ha tradita l'ha tradita con la sua migliore amica e a quel punto lei decide di lasciarlo purtroppo il fidanzato muore e lei si ritrova con con questo bimbo nel grembo e in una situazione molto molto confusa alle spalle di queste due persone c'è una una storia di una famiglia molto complicata e all'interno di questa storia di questi personaggi Megan si ritrova nel paese appunto dove ha conosciuto il suo fidanzato si ritrova a dover proprio per lavoro per necessità lavorativa dover ristrutturare un edificio che fa parte della storia e che lega molte famiglie molte famiglie della zona si ritroverà poi con l'ex suocera chiamiamola così che con la sua invadenza perché non ha voluto credere alle appunto a quello che Megan gli ha detto che il figlio l'aveva tradita e quindi era per quello che lei l'aveva lasciato si ritrova appunto questa suocera un po' ingombrante ma che comunque vuole bene sia a lei che al bambino e ad una serie di tanti personaggi intorno a Megan che le vogliono bene che cercano di aiutarla e del migliore amico del suo fidanzato che comunque prova dell'affetto per lei e che insomma tutte queste persone poi l'aiuteranno a realizzare il lavoro di ristrutturazione e faranno scoprire così una storia molto molto antica che lega un po' tutti questi personaggi un romanzo carino piacevole divertente insomma da leggere magari quest'estate all'ombra dell'ombrellone o sotto un albero con una brezza di vento che speriamo arrivi prima o poi libro che mi è piaciuto tantissimo e che probabilmente tanti di voi conosceranno questo di Valérie Perrin il quaderno dell'amore perduto allora io leggendo questo libro sono andata anche a ricercare su internet ma non ho trovato nulla leggendo questo libro io avevo davanti a me delle immagini di un film di cui io non ricordo il titolo ma sono quasi certa al 90% di aver visto un film che racconta in maniera molto molto simile la storia di questo libro però ho cercato su internet e non ho trovato nulla non so se me lo sono inventato io o se mentre leggevo mi immaginavo talmente bene le immagini che mi sembrava di essere all'interno di un film anche qui si parla di anziani si parla di Justine che è una ragazza molto giovane rimasta orfana dei genitori che vive con i nonni e con suo cugino che lei reputa un fratello perché i genitori di entrambi sono morti in un incidente stradale e lavora in una casa per anziani in una casa di riposo lavora in una casa di riposo ma diciamo oltre che essere un lavoro è proprio una vocazione lei piace stare con gli anziani gli piace ascoltare le loro storie che spesso raccoglie in un quaderno e anche perché ha una situazione magari familiare un po' strana dove la nonna e il nonno non gli hanno mai detto in che modo sono morti i genitori e hanno sempre un po' nascosto tutta la storia lei sta meglio alla casa di riposo con i suoi anziani dove appunto li accutisce li vuole bene frequenta in maniera molto sporadica un ragazzo di cui non sa il nome e che incontra una volta alla settimana o una volta ogni tanto quando va in discoteca e e nulla cioè tutto questo romanzo praticamente è Justine che scrive la storia di una anziana a cui lei è molto molto affezionata e che si chiama Hélène Hélène che racconta del suo grande amore di un amore spezzato dalla furia della guerra e nutrito dalla forza della speranza di questo marito che ritorna e poi pian piano appunto non voglio raccontarvi troppo perché altrimenti svelerei troppe cose un romanzo bellissimo in alcuni punti anche un po' duro e un po' crudele ma che secondo me tocca tantissimi punti io sono molto sensibile sul tema degli anziani ho avuto la fortuna di avere intorno a me tante persone anziane e anche tante persone anziane magari ammalate che non direttamente io se non con mio papà ma nonni zii a cui i miei genitori si sono dedicati anima e corpo quindi ho sempre visto il fatto di poter assistere e curare una persona anziana non come un dovere ma come un gesto d'amore perché la persona anziana ci regala veramente tanto ci regala le sue memorie ci regala la sua esperienza e devo dire la verità ho avuto la fortuna di avere un bellissimo rapporto con le persone anziane perché quando io ero adolescente la mia catechista mi portava a una casa di riposo che è qui nella zona di Lecco e per quasi 4-5 anni noi tutte le domeniche andavamo ad imboccare queste persone che magari non avevano dei familiari che lo potessero fare e lì ho imparato ad apprezzare io ho benissimo in mente due o tre persone anziane di cui ricordo ancora il nome e che mi hanno raccontato tanto e mi hanno lasciato tantissimo nella mia vita che mi ha aiutato anche secondo me a prendere determinate decisioni e anche alcune direzioni di di vita di così di modi di di capire di non so come dire proprio modi di di amare no di capire che queste persone hanno costruito il nostro mondo hanno costruito il nostro passato e non è giusto che vengano dimenticate e vengano abbandonate certo bisogna capire che in alcune situazioni purtroppo la famiglia non sempre riesce a prendersene cura però tanti di questi di questi anziani erano davvero abbandonati con i figli che andavano a trovarli magari soltanto una volta al mese quando quando noi arrivavamo ci vedevano cioè si illuminavano gli occhi era proprio il momento in cui loro potevano raccontare com'era andata la loro settimana quello che avevano mangiato magari erano anche un po' confusi perché chiaramente essendo anziani magari con la testa non proprio completamente lucida però io ho davvero un profondo rispetto per le persone anziane e questo libro mi ha commosso mi ha commosso in tantissimi punti ed è veramente un bellissimo un bellissimo romanzo adesso sono sono curiosa di leggere gli altri romanzi di questa di questa scrittrice di cui ho sentito parlare benissimo e vediamo un po' che cosa riuscirò a fare quest'estate d'estate riesco a leggere molto di più perché generalmente fa caldo e quindi non riesco a fare nient'altro alla sera e poi la lettura ha sempre fatto un po' parte della mia estate non era quel momento in cui io riuscivo proprio a rilassarmi anche quando andavo a scuola ho in mente che durante l'anno si riusciva a leggere poco perché c'erano i vari impegni per tutto l'anno c'era la scuola c'erano gli impegni in parrocchia e c'era il catechismo e c'era lo sport e tutte queste cose d'estate tutto questo pian piano si fermava si fermava come era giusto che fosse e quindi avevo il tempo proprio di andare in biblioteca perché non avevo i soldi per comprarmi i libri e mio papà di certo non me li dava per comprarmi i libri e quindi riuscivo ad andare in biblioteca ed era per me una gioia una gioia pura mi piaceva tantissimo cioè questi scaffali ricchi di storie che mi facevano viaggiare che mi facevano sognare e quindi sicuramente l'estate è un momento in cui io leggo leggo veramente tanto questi li ho letti in due tre settimane quindi più o meno un libro e mezzo settimana circa poi alcuni li ho letti anche in meno tempo perché erano molto veloci bene spero di avervi dato così qualche spunto letterario che vi possa far compagnia in questa estate io sono già alle prese con altri due libri e sicuramente presto vi presenterò anche quelli che sto leggendo ora che dirvi spero di vedervi presto di riuscire a girare un altro video prima di partire e ho questo desiderio di andare a Courmayeur soltanto non solo per il fatto che farò una vacanza lavoro più lavoro che vacanza ma so che sarà un'esperienza bellissima ma perché spero ci sia un po' di fresco siamo a 1300 metri e io spero francamente di poter mettere un golfino alla sera di sentire quel fresco e magari anche una giornata di pioggia dove metto anche le calze ai piedi ragazzi io amo queste cose e per me il caldo il caldo è davvero drammatico e faccio proprio fatica a sopportare bene dopo essermi lamentata per un pochettino io vi saluto vi auguro una buona settimana non so quando riuscirò a editare questo video probabilmente domani e nulla spero che qualcuno di voi magari sia già in vacanza e si goda le vacanze e se non potete andare in vacanza perché so che purtroppo non tutti se lo possono permettere affidatevi a un libro i libri come dico sempre vi fanno sognare e vi fanno viaggiare anche se siete seduti in poltrona e secondo me è proprio questa la magia della lettura un abbraccio e a presto buona domenica a tutti